Musica Salve a tutti acirene e acirene e bentornati in una nuova puntata di Acire's Corner Questo video nasce da una discussione con alcuni di voi su Facebook Si parlava dei metodi alternativi per esporre le nostre figure Nel momento in cui abbiamo la camera strapiena e non abbiamo spazio per mettere, inserire, disporre Deetolf, Billy, qualsiasi liberia che possa ospitare le nostre figure E che proteggano quest'ultime da qualsiasi agente esterno Quindi la polvere, l'umidità, le mamme pazze che cercano di pulire e distruggono le nostre figure Bambini, nipotini, qualsiasi cosa E io, come ben sapete, ho la camera strapiena un po' alle mie spalle Vedete qualcosina, ma ho anche una Billy, un'altra Detolf, un armadio, un'altra libreria qui Sto abbastanza sommerso E cercavo delle vetrine piccole in plexiglass Qualsiasi cosa per esporre ciò che realmente non entra all'interno delle vetrine Con il mio amico Andrea abbiamo iniziato a cercare un po' su Aliexpress Sì, perché siamo un po' porelli Quindi cerchiamo i modi possibili per esparmiare Delle piccole vetrine in plexiglass Però le ricerche hanno avuto i frutti Però non proprio entusiasmanti, diciamo così C'era una vetrina normalissima, piccolina, 25 euro Però mi scocciavo aspetto a un mese Cioè no, Aliexpress accelera i tempi E Santo Amazon ha ascoltato le mie preghiere E ho trovato questa display case fantastica Io ovviamente l'ho acquistata E adesso la recensirò insieme a voi La vetrina in questione è questa di Master Tools display case Come potete vedere è enorme E sul lato posteriore ci saranno tutte le varianti Sì, perché ci sono tantissime display case in base alla grandezza Quindi c'è quella più piccola, quella più grande, quella più alta, quella più lunga Io ho acquistato questa media Che sarebbe poi questa la dimensione Perché qui metterò le action figure di Berserk Sì, perché io ho un punto morto nella camera mia Che si trova proprio lì, nell'angolo Perché ho la scrivania che oscura proprio quella sezione E un po' mi dà fastidio Anche perché poi sto cambiando disposizione nella stanza Poi vi aggiornerò in seguito E devo un po' modificare le vetrine Quindi fare le vetrine a tema, le vetrine Final Fantasy La vetrina Sailor Moon, la vetrina Madoka, la vetrina Rando E qui, dato che quelle di Berserk sono realmente piccoline Stiamo parlando di quelli cosini così Ho deciso di acquistare proprio una display case a parte E poi magari esporle lì Perché sì, occupano tantissimo spazio e sono microscopi Quindi proprio uno spazio buttato Questa case, come avevo detto, è stata acquistata su Amazon 23 euro compresa le spese di spedizione Quindi mi è andata proprio alla grande E lo apro insieme a voi Sì, la volevo aprire prima Però ammetto che vanno abbastanza Sì, io sto combinando il macello Ok La vetrina è questa Come potete vedere è davvero carina Io ho appunto questa dimensione perché meno male Quella che mi serviva Il coperchio è il plexiglass normalissimo E la base è una qualsiasi base in plastica dura nera L'unico acchitto che io ho notato Sia da alcune recensioni che da altre parti È che manca un gancio che serve a chiudere Cioè manca una sicurezza Questo se cade di testa si è aperto E non è proprio una buonissima cosa Però per il resto Sembra davvero ben fatta Sembra davvero carina Niente da dire Ovviamente qui poi la possiamo personalizzare come vogliamo Possiamo mettere Possiamo fare dei buchi sotto per mettere i led Fare magari qualcosa Uno sfondo dietro Sì Utile ma non fighissima Quindi un set È proprio così Però può servire Può essere una variante Per chi magari vuole collezionare E non vuole spendere 70 euro per una detolf Oppure non ha tantissimo spazio Le mette su un mobile Quindi ci sta Ci sta tantissimo Cioè È bella ma non è entusiasmante Mettiamola sotto questo punto di vista Io non so voi che quali metodi usate Che cosa utilizzate per collezionare Per esporre le vetrine Quindi Vi invito a farvi sapere qui sotto Quali mezzi Quali oggetti utilizzate per esporre Io bene o male sono tutti oggetti Kia Perché sono abbastanza abbordabili E sono quelli utilizzati dalla Tre parti dei collezionisti Se avete altri metodi alternativi Rivenditori da consigliare O espositori Plexiglas Qua vetro Fatemelo sapere sempre qui sotto nei commenti E vi ricordo di iscrivervi al mio canale Seguirmi su tutti i vari social network Così almeno vi restate aggiornati Su quelli che sono i miei scarri quotidiani E quant'altro Per ora è tutto Ma solo per ora Sciurami ringraziaci E al prossimo io Ciao